Sbattivano i lenzuoli sulle terrazze e spesso è una poesia che si affianca a poesia e quindi io sono grata veramente al centro studi perché so che questi libri e musica queste libri praticamente ascolterete dopo se ci saranno piacere delle canzoni il progetto che è oggi ed è inaugurazione del centro studi di Pertulli in questi anni sono diversi poeti, scrittori e illustri che abbiamo cercato di portare il messaggio al progetto come diceva il sindaco noi di Cocuna ci abbiamo venuto particolarmente come sapete l'idea partì tanti anni fa, fino agli anni 70-80 come diceva l'idea partì come diceva l'idea partì come diceva l'idea partì Aroncio, limone, mandarino 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 Aroncio, limone, boundino Aroncio, limone, mandarino Aroncio, limone, mandarino Aroncio, limone, cordula Montao, limone, i Grazie a tutti